Ciao a tutti, io sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a presentarvi un altro prodotto molto interessante. Rinnova la tradizione della linea G di Motorola e il Moto G5 Plus presentato poco tempo fa al Mobile World Congress di Barcellona. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccoci dunque con il nuovo Moto G5 Plus che vediamo in tutto il suo splendore in questa versione dorata, poi entraremo nel dettaglio di tutte le caratteristiche da cui è composto. Intanto partiamo dal display, 5,2 pollici, questa è la diagonale, la definizione Full HD, per la proporzione tra display e superficie totale parliamo del 67,1% di rapporto. Discreto però diciamo che le cornici superiore e inferiore sono abbastanza generose. Sul retro fotocamera da 12 megapixel con la curiosità che negli Stati Uniti sarà in grado di riprendere video a 4K e invece da noi in Full HD a 1080 pixel con 30 frame al secondo, un sensore quello della fotocamera che riprende insomma quello che è ormai un segno distintivo dei Moto, leggermente sporgente rispetto al corpo del telefono ma nulla che possa dare particolare fastidio al telefono. Vedete nella parte superiore e nella parte inferiore c'è la parte che è riservata alle antenne, tra l'altro questo Moto G5 Plus è il risultato del lavoro del nuovo capo del design di Moto che sapete è il marchio su cui Lenovo punterà da qua in avanti, a parte in alcuni paesi in giro per il mondo dove il marchio Lenovo è fortissimo, per il resto del mondo Moto sarà il diciamo il marchio, il brand di punta per il mondo degli smartphone. Allora, abbiamo già detto, display Full HD da 5,2 pollici, 12 megapixel sul retro, 5 megapixel invece sul fronte, la fotocamera per quanto riguarda il retro ha addirittura un'apertura 1.7 mentre la fotocamera frontale, quella da 5 megapixel, ha un'apertura 2.2. Per quanto riguarda la dotazione, questa è la versione da 32 giga di memoria interna con 3 giga di RAM. Dei 32 giga di memoria, 24 sono quelli disponibili per l'utente. A bordo di questo telefono, ve lo mostro anche, c'è Android 7.0, vedete che è la dotazione del telefono Android 7.0. Questo significa che ci sono diversi vantaggi che poi vi mostro. Intanto vi faccio notare anche un'altra cosa, poi torniamo anche al dettaglio di questo tasto centrale, ovvero il fatto che ci sia il pixel launcher, praticamente lo stesso sistema di gestione delle applicazioni e delle schermate principali che trovate a bordo di Pixel e anche adesso di Nexus. Il tasto centrale, allora il tasto centrale può sostituire i tasti a schermo, vediamo adesso, vedete, io ho praticamente messo il tasto centrale come tasto principale di utilizzo, il che vuol dire che con uno swipe in questa direzione voi andate indietro, con uno swipe in questa direzione invece attivate multitasking, con una pressione sul tasto centrale, avete essenzialmente il passaggio alla home, mentre tenendo premuto il tasto centrale, vedete, andate essenzialmente a Google Now on tap. Con la pressione prolungata, vedete, su Google Now on tap, con uno swipe invece laterale avete Google Now che, insomma, è la dotazione che ormai conoscevo bene da Google. Sappiate che in questi giorni viene distribuito, insomma, in tutto il mondo anche l'assistente di Google su tutti i telefoni Android, quindi a piano piano, in giro per il mondo, premendo a lungo questo tasto, anziché attivare Now on tap, ci sarà la possibilità di invece attivare l'assistente di Google. Quando arriverà anche su questo telefono dovrete utilizzare la lingua inglese per il momento per poter avere quella caratteristica. Allora, non vi ho fatto vedere poi il telefono da vicino, questo è un lato, vedete, pulitissimo, proprio estremamente pulito, sulla parte inferiore c'è il caricatore micro USB, curiosamente, poi, perché ormai quasi tutti stanno dotando USB Type-C, su questo lato invece l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, un lato invece con il pulsante d'accensione zigrinato, se lo schiacciate due volte, tra l'altro sarete in grado di accedere direttamente alla fotocamera, sempre che voi attiviate la funzione, e poi il controllo del volume o volume rocker. Sulla parte superiore c'è invece il cassettino che vi permette di mettere due nano SIM e una micro SD per l'espansione di memoria. Le misure, 150,2 mm per 74 mm e uno spessore di 7,7 mm che rende il telefono comunque impugnabile, peso importante 155 grammi. Velocità del processore Snapdragon 625, io devo dire notevole, molto interessante da questo punto di vista, il fatto che questo processore sia in grado di gestire consumi e prestazioni in modo davvero ottimale. Vediamo una pagina caricata del Corriere della Sera, vedete con quale velocità vengano gestiti i contenuti, davvero interessante il livello di qualità di servizio che questo prodotto vi offre. Andiamo sul sito di Radio Number One, vi mostro adesso, vi faccio sentire anche lo streaming audio del sito. Adesso c'è un intervento parlato in onda, però stiamo ascoltando Radio Number One. Allora, vi faccio notare che l'audio arriva da questo punto, quindi c'è l'audio essenzialmente da questo altoparlante frontale. un buon livello di audio, tra l'altro, un ottimo livello di audio, con anche una buona definizione per quanto riguarda i bassi. Vi faccio notare che se avete in mano Android 7.0 e quindi avete la possibilità, torno a fare uno swipe in questa posizione, sapete di utilizzare essenzialmente il doppio schermo che è in grado di mostrarvi, vedete in questo caso ho applicazioni aperte che non supportano lo schermo diviso e quindi non mi permette di fare quello che avevo intenzione di fare. Allora, ne approfitto per farvi notare anche che una pressione prolungata vi permette di spegnere il display. Ecco, attivando questa applicazione invece, vi faccio vedere essenzialmente uno dei punti di forza di questo telefono, cioè il fatto che i movimenti siano veramente interessanti. Intanto la possibilità di usare il sensore delle impronte digitali, come abbiamo visto prima, per attivare il multitasking, oppure per, in questo caso per andare indietro, o premendo per andare al tasto home. Qui essenzialmente mi sta facendo vedere quella che è l'esercitazione per imparare ad utilizzare queste funzionalità. Quindi io ho attivato questa opzione. Avete poi la possibilità di ruotare per attivare lo scatto rapido, vuol dire che voi quando avete il telefono spento girate velocemente il vostro telefono, vedete, voi fate così e in questo momento avete in modo di attivare la fotocamera molto velocemente. L'alternativa tra l'altro è premendo due volte il pulsante di accensione e questo lo decidete voi tra l'altro come lo volete gestire. Visto che la fotocamera è accesa, approfittiamone anche per vedere con quale velocità scatti. Allora, vedete che la velocità di scatto è abbastanza veloce, riproduzione dei colori così così come fedeltà. Peraltro vi devo dire che a livello di fotografia, pur avendo un'apertura 1.7, se provate ad utilizzare questo telefono con pochissima luce, insomma, le immagini sono so and so. Diciamo che potrebbe sicuramente dare molto di più un prodotto di moto. Però ecco, forse la fotocamera rimane uno dei punti deboli. È vero che Moto Z e Moto Z Play hanno il modulo aggiuntivo di Hasselblad che forse, insomma, aiuta un po' a risolvere questo problema, ma in generale bisogna dire che forse la fotocamera è proprio una delle aree di miglioramento principali per il telefono di moto. Allora, l'audio l'abbiamo sentito, vediamo un menu che non ha un grande livello di personalizzazione, come detto, ciò che veramente fa la differenza è tutto quello che potete fare con il vostro telefono, cioè ad esempio utilizzare con telefono spento un doppio martello, vedete abbiamo acceso la torcia, con un altro doppio martello, la torcia poi viene spenta. Vi ho già mostrato dunque il fatto che ruotando il telefono si accenda dalla fotocamera e poi avete delle cose più classiche, cioè il fatto che girando essenzialmente il telefono siete in grado di silenziarlo quando vi arrivano delle notifiche, magari per avere il non disturbare. Altro aspetto importante è il moto display, adesso vi mostro subito, spengo il telefono, vedete lo appoggio, lo muovo, dovrebbe apparire adesso il, eccolo qua, vedete che è apparso adesso per qualche secondo l'orologio, così come potrebbero apparire le notifiche quando ce ne sono sul telefono. batteria da 3000 mAh di ottimo livello, questa batteria agganciata essenzialmente al processore Snapdragon 625 con un display che non ha una risoluzione fuori di testa, diciamo che la combinazione dei fattori secondo me è più che buona. insomma, 299 euro, un aspetto gradevole, una dotazione hardware nella media, certo ci sono prodotti che sono di gran lunga superiore a livello di dotazione hardware con un prezzo che non è esageratamente più alto, però diciamo che questo è un buon compromesso ed è un prodotto che secondo me rinnova alla grande la tradizione della linea G di moto, promossa da Mr. Gadget. grazie a tutti